Salve a tutti, io sono Marco, benvenuti alla Sosta di Giano. Questa è l'attività di cui sono proprietario insieme al mio socio Christian, che vedrete presto in un altro video. Qui noi abbiamo deciso di improntare il nostro tipo di servizio sulla qualità del beverage. Siamo diventati grandi stimatori di spirits e birre. Abbiamo una vasta selezione di whisky, gin, rum, vodka e soprattutto di birre artigianali e non. Oggi siamo qui per presentarvene alcune. Allora, partiamo con la prima. Questa è una Weiss, una birra di stile tedesco, il suo nome è Kapuziner, leggermente meno famosa delle sue competitor tedesche, che sono Erdinger, Franziskaner, sempre in stile Weiss, che sono birre non filtrate, che alla fine, in fondo alla bottiglia, creano un sedimento e che devono essere servite in una maniera un po' particolare. Ovviamente per quello ci pensiamo noi al servizio. la birra deve essere versata quasi nella sua interezza, stanno attenti a lasciare una piccola parte sul fondo da mescolare ben bene, fino a creare una leggera schiuma che verrà poi adagiata sulla cima della birra. Crea un effetto scenico veramente molto molto bello da vedere. Questa è anche molto molto buona da bere, molto leggera, bassa gradazione alcolica, io non sono un tipo a cui piacciono molto le birre con alta gradazione, preferisco magari bere una con meno gradi, però così da permettermi di magari in seguito, se mi è piaciuta, prenderne sempre un'altra, così da rimanere all'interno dei limiti. Questa birra ha anche, vedrete, lo stile classico proprio tedesco a livello di forma, con il classico tappo a baionetta o non so come si chiama di preciso, però molto caratteristica, proprio trasuda germani da tutti i pori. La seconda birra che vi mostrerò è una birra italiana, finalmente, perché negli ultimi tempi un sacco di micro birrifici italiani stanno facendo birre molto interessanti, anche qui a Perugia, vicino a noi, abbiamo una veramente molto buona, la birra a Perugia. Questa qui viene sempre da non molto lontano, però cambiamo regione, andiamo nelle Marche, in provincia di Pesaro-Gradino. Questa birra viene prodotta dal birrificio Cervisia, è una lager, il suo nome è Ciurma e subito dal packaging colpisce il suo aspetto molto ricercato, molto particolare, disegnata come se fosse, l'etichetta disegnata come se fosse su una lavagna, molto molto carina da vedere. È una lager, quindi molto leggera, poco gassata, si beve molto molto bene, più leggera della lager c'è solo la Pils, come tipologia di birra, quindi qui siamo quasi al limite, proprio anche a livello di anidride carbonica contenuta in essa, è molto molto leggera, non gonfia e soprattutto mantiene il classico stile lager, però accompagnato da una nota particolare, una nota amara alla fine, che ti lascia quel retrobusto un pochino amarognolo, veramente una birra molto molto piacevole da bere, soprattutto in queste torre di giornate estive. Ed ora ho lasciato il pezzo forte alla fine, questa è una delle mie birre preferite in assoluto, la Delirium Tremens, birra di stile belga, una strong beer, arriva a fare 8 gradi e mezzo, anche qui packaging molto particolare, che è sempre una delle cose che più mi colpisce nelle birre, già il nome tradisce un po' dove vogliono andare a parare, Delirium, arricchito da tutti questi codrilli che ballano, traghi, elefanti rosa, cioè lascia suggerire uno stile un po' delirante, che accompagna poi anche i sapori della birra stessa. Una birra molto corposa, con un grande corpo, veramente molto fruttata, è un'esplosione di sapore in bocca, indescrivibile, cioè io adoro questa birra da morire ed è veramente secondo me una delle migliori birre al mondo, cioè con questa andate sul sicuro. I loro produttori ne fanno anche un'altra, Delirium Nocturnus, un pochino più scura, però sempre su questi toni qui. Vi consiglio veramente di provarla. Questa era l'ultima birra che vi presentiamo oggi e vi ringrazio per essere stati con noi, io sono Marco e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.